In chiusura il calcio è in corso mentre andiamo in onda il primo tempo del derby torinese tra Juventus e Torino, valido per il sedicesimo turno di ritorno del campionato di Serie A, con particolare attenzione per i Granata di Walter Mazzari che puntano a cercare di entrare un posto nella prestigiosa Champions League. Tra domani e domenica il resto del programma, con particolare attenzione per Udinese-Inter e poi domenica per Lazio-Atalanta e Napoli-Cagliari. È tutto per l'edizione di prima serata di speciale News Web 24, grazie per averci seguito anche stasera, prossimo appuntamento con il nostro telegiornale domani mattina alle 9 in cui ovviamente vi riproporremo l'intervista che avete sentito. Grazie ancora e buon proseguimento di serata.